cari amici di medicina apriamo il mese di aprile nella nostra sala giovedì 6 con la proiezione di un regista che ha fatto davvero suo il botteghino il box office in questi anni un regista attore che non ha bisogno di presentazioni per la sua forza popolare commerciale diciamo così più che critica più che artistica ovvero alessandro siani che ha creato un nuovo film che ha proprio pensato lui un film che si chiama tramite amicizia un film sui legami un film sui collanti umani tra vari personaggi che andiamo a scoprire intanto dal suo trailer ufficiale eccolo qui siete mai fatto un attolo personale se quanti amici potete contare nel momento del bisogno e siete proprio sicuri che loro non vi tradirebbero mai la mia agenzia si chiama tramite amicizia deciso che prendo tutto perché sono troppo depresso si sente solo e perdiamo il lavoro e come noi chissà quando altre famiglie devi salvare il lavoro e lo devi fare tramite amicizia ma non è così che si fa ogni cosa in questo paese sono più di un amico io credo solo facciano come ti la vera amicizia non ha mai secondi film la vera amicizia non ha mai secondi film un film su questo legame un film su questo sentimento un film su questa emozione un film che ci fa sorridere un film spensierato godibile piacevole con una regista che viene accompagnato da un cast importante Max Tortora ad esempio che avete visto questa particolare agenzia che ci parla di uno dei concetti anche più importanti per medicina l'amicizia andate a vederlo nella nostra sala vi divertirete grazie a tutti per l'attenzione ci risentiamo con i nostri prossimi appuntamenti risultati